Sconfitta dal sapore di retrocessione diretta per l'alma Juventus-Fano, che viene fermata in casa dell'Avezzano e complice la vittoria in Real Monterotondo con il Matese, deve dire addio alla Serie D. Troppi, infatti, ad una sola giornata al termine, i 12 punti di stacco di granata alla compagine laziale, attualmente quintultima, che annulla così la possibilità di play-out. Si chiude quindi nel peggiore dei modi una stagione nata male, finita peggio per il Fano, tra cambi di proprietà ed allenatori che non hanno sortito l'effetto sperato. Per quanto riguarda la cronaca del match, l'Avezzano attacca fin dal primo minuto, trovando la rete e il vantaggio alla mezz'ora, con una bella azione conclusa da Ferrani. L'alma prova a rispondere per rientrare in partita, ma i marzicani controllano bene e non concedono molti spazi. Nella ripresa, i padroni di casa gestiscono la manovra e trovano il raddoppio al 36esimo del secondo tempo, ancora al termine di una buona azione corale concretizzata da Senesi. Gara che, di fatto, si chiude qui e con essa anche le speranze di salvezza del Fano. Con la retrocessione in eccellenza, sarà tutto da scoprire il futuro dell'alma del tutto inutile la gara di domenica al Mancini contro il Monte Rotondo.